E' un tema molto particolare quello di questo convegno, basta morti sul lavoro e in questo periodo dobbiamo dire si fa la conta? Sì, abbiamo voluto unitariamente come CGL e Cisle Will fare questa iniziativa e scegliere Grotone per le vicende che sono accadute in questi ultimi mesi. Il tema della sicurezza sui luoghi del lavoro, soprattutto in Calabria nel mezzogiorno, è un tema che va affrontato con immediatezza e con azioni concrete. A partire dalla vigilanza e i controlli delle sezioni ispettive del lavoro, dalla vigilanza sociale che deve fare il sindacato e poi bisogna mettere mani a questa catena perversa degli appalti e superappalti che molte volte fa diventare il lavoratore l'anello più debole di una catena perversa che alla fine fa pagare questa mancanza di adeguatezza anche delle norme e dell'applicazione delle norme con il prezzo della vita. Non ce lo possiamo consentire, non ce lo possiamo più permettere. Lei ha detto una cosa interessante anche perché credo che ci siano diverse cose che non funzionano come lei ha ben detto, ma che cosa propone il sindacato? Noi intanto abbiamo detto nei giorni scorsi che bisogna fare più azioni. La prima è una grande azione di prevenzione, quindi cercare di lavorare come sindacato con i nostri enti bilaterali e sui luoghi di lavoro con le rappresentanze sindacali per la cultura della sicurezza e quindi spiegare che non bisogna assolutamente negoziare il salario con la sicurezza sui luoghi del lavoro perché il primo investimento che il sindacato e ogni lavoratore deve fare è portare a casa la vita la sera e quindi non si può con lo stato di bisogno e con il sottosalario risparmiare sulla sicurezza. Quindi una grande opera di prevenzione e poi ci vuole una grande opera di vigilanza sociale perché bisogna fare più controlli, perché c'è molta, molta negligenza da parte del sistema imprenditoriale che noi abbiamo più volte chiamato alle responsabilità. Ci vuole una cultura di impresa sociale anche perché il lavoratore non può essere utilizzato H24 e non lo si può ottenere come tutto fare, bisogna dargli la giusta formazione e poi bisogna che si avvii questo grande controllo a tappeto che noi abbiamo chiesto sia sul lavoro nero, sul caporalato e sulla sicurezza che sono tre temi che si concatenano. Chi dovrà fare questo tipo di controllo sui settori? C'è uno strumento, c'è uno strumento che sta in capo anche alla giunta regionale la giunta regionale, il dipartimento salute della giunta regionale ha la possibilità di attivare questo coordinamento sulla sicurezza dove può chiamare tutti gli attori in campo quindi il sindacato, il sistema delle imprese, le autorità di vigilanza, IMS, INA, gli ispettorati ecco quello può essere il tavolo dove tutti ci assumiamo le responsabilità noi abbiamo chiesto più volte al presidente Oliverio di convocarlo, lo chiederemo anche oggi perché quello deve essere il punto in cui parte una grande discussione in Calabria sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro.